Bella a tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo video della compagnia di Nabi, io sono Luchino Han e con me c'è sempre il pro di André. In questo video vi faremo vedere come completare i nuovi incarichi Transformers parte 2 usciti pochi giorni fa nel modo più veloce possibile. Prima di cominciare il video ragazzi vi ricordo di supportarmi nello shop di Fortnite con il codice creatore Luchino N con la K tutta attaccata. Acquistate anche una piccola sciopatina, fate una piccola sciopatina con il mio codice come ho appena fatto io e vi dirò di più. Se ci saranno almeno 10 commenti su questo video, nei commenti dovete scrivere il vostro ID Epic, ne sceglierò uno a caso e vincerà una skin dallo shop di Fortnite. Quindi ragazzi commentate, commentate, commentate ma soprattutto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Detto questo andiamo in partita André, non perdiamo altro tempo. Per completarli nel modo più veloce possibile atterriamo a Mega City, prendiamo subito un veicolo perché dice guida un veicolo entro 20 secondi dall'atterraggio del bus e poi guida veicoli in una sola partita. Quindi saliamo su una macchina, poi ne cambiamo altre due e dovremmo fare due obiettivi molto velocemente. Poi da là andiamo verso i punti dorati, i punti di interesse dorati e cominceremo a far fuori droni. Ovviamente in una partita non ne riusciremo a fare 10, però vi faremo vedere come dovrete fare. Distrugge oggetti con esplosivi. Qua André funziona anche il cannone Cybertron, giusto? Sì, sì, anche più. Perfetto perché a colpi diciamo infiniti una volta che si sono ricaricati e se avete culo infliggi danni agli avversari mentre sei su un veicolo in sella, mentre vi spostate in macchina fate dei danni. Potete utilizzare anche sempre il cannone, le granate, quello che volete voi e dovrebbe essere abbastanza facile. Detto questo andiamo in partita, let's go! Ok ragazzi, siamo in partita, come vedete ci stiamo avvicinando a Megacity, dobbiamo trovare un veicolo appena atterrati. Io già ne ho individuato uno vicino al buzzico dell'immondizia come si suol dire. Anche le moto valgono André? Sì, sì, le moto e anche le barche di barche. Ok, vai sali, già ho livellato. Oh, c'è uno davanti a me, ok, niente, via. In carico l'ho completato, ok, perfetto. Quindi scendiamo e prendiamo la moto, perfetto. Ok, dove andiamo? A trovare un altro veicolo. Aspetta, vediamo eh, vediamo se funziona. Sì, funziona, ha funzionato, perfetto. Allora, salgo sul tuo. Allora, dobbiamo andare sui punti di interesse dorati e rovine rubiconde. Se no c'è crocevia Kenjutsu. L'importante è farvi vedere come completarla. Siamo arrivati, potete riconoscerli, fanno un piccolo suono, non so se ci avete mai fatto caso. Eccolo là, ce ne sono due, ok, uno fatto, due fatto. Aspetta un attimo che elimino il veduino della situazione, perfetto. Allora, altri non ne vedo. Tandiamo in alto. Ah, ok. Vai, tre. C'è un altro qui, ah. C'è un altro? Ah, sta sotto, ok, perfetto. Grazie, Andre. E abbiamo già fatti quattro, ragazzi, eh. Allora, due incarichi fatti e un altro siamo quasi a metà. Vediamo se troviamo il cannone Cybertron, una cosa del genere, magari una botta di fortuna. Prendiamo anche le granate, raga, perché anche queste dovrebbero valere. Lanciamo delle granate così, totalmente a caso, dentro una struttura. Vediamo se me li conta. Sì, 8 su 50. È un modo alternativo per completarla. Cioè, non è una cosa impossibile. Stavo cercando granate, ma qua non ce n'è una massa. Allora, andiamo, andiamo. Andiamo a vedere il posto con le tanniche di benzina, vai. Allora, riprendiamo, torniamo nei pressi di Mega City. Vediamo se nel frattempo troviamo qualcosa da far esplodere. Ok, ho trovato delle granate. Facciamolo uscire. No, aspetta. Di dietro io... Passare a scena. Ecco, 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 ecco. Vai, vai, vai. Aia. 18. Ok, è atterrato. Abbiamo fatto 111 di danno su 200. Aspetta che c'è un'arma interessante. Allora, provazione. Vediamo. Era 111. Vediamo se aggiorna. 123. Sì, vale, però non li segna tutti. A me servono più che altro munizioni. Di cosa? Ma di tutto. Non c'ho più niente, non c'ho. Allora. Chi anni? Sì, mi hai ottenuto. Ok, grazie. In delira. C'è anche laggiù, eh. Ok, la presa, perfetto. Vediamo se me le conta, un attimino, eh. C'è 7? Inoltre c'è uno. Sì. La macchina è esplosa? No, ok, ok. Proviamo a fare esplosare la macchina, magari. Sì, 34 su 50. Quindi, ragazzi, anche le tanniche di, cioè, le tanniche, i distributori di benzina valgono, eh. Allora, andiamo qua. Che fa tempo. Sto facendo un po' di file, eh. Va bene, va bene. Mamma mia. Mamma mia. Andiamo, andiamo a trovare dei punti. Andiamo dove ci sono i droni. Guida tu. Dove cazzo sta? Ah, guarda. Ah, si è boxato. Via, 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 via. Non l'ho preso nemmeno una volta con la mia fantastica mira. Eh, la macchina è semplici di vita. Eh, prendiamone un'altra. Buono, buono, fermo. Via, perfetto, via. Non lascia tracce, André. La soddisfazione. Sì. Allora, se troviamo qualcuno strada facendo, ben venga. Io devo trovare quel cacchio di cannone Cybertron. Ok, aspetta che c'è un distributore. Facciamolo saltare per aria. Vai avanti. Ok, comunque c'è un'idea. Sì. È quello e basta? Ok, vabbè. Via. Un attimo, io... Ok, c'è gente? Eh, facciamo quella macchina. Vabbè, no, stanno. No, non ci posso credere, raga. Non ci posso credere. È mortissimo, comunque. Grazie. Eh, a posto. C'è le chiavi? Eh, una ne aveva. Vabbè, dai, mi ritieni a me. Ok. Posso entrare? No. Serve soltanto un'altra chiave. Poi possiamo andare per il... Ok. Va bene, operazione Ressaggio. Andiamo nel frattempo. Allora, 38 su 50. 123. Ok, dai, ci siamo. Ci siamo. Siamo ben messi. Grazie. Eh, io dovrei salire nella macchina per fare sti cazzo di obiettivi. Facciamogli esplodere la macchina, va. Perfetto. Bene, uno ho fatto. Cazzo! Però ho fatto l'obiettivo, ragazzi, eh. Ho fatto l'obiettivo. Bene, 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 bene. Ok, ragazzi, vi abbiamo fatto vedere come completarli. A me mancano due incarichi, ma l'abbiamo già parzialmente completati. Quindi cercate dei... Una volta startata la partita, i punti di interesse dorati. Cominciate a sparare i droni. E fate esplodere tutto ciò che incontrate. Distributore con le granate, con il cannone dei Transformers, con le tanniche di benzina. Questo video è tutto, mi raccomando, super mega like e ricordatevi di commentare il video con il vostro ID epiche per avere la possibilità di vincere una skin. Attivate la campanellina, cosa molto importante, e iscrivetevi al canale. Io e Andre vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!